L'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, programma nuovi interventi sugli edifici scolastici da finanziare mediante le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli ultimi progetti predisposti dagli uffici riguardano la scuola dell'infanzia di Piazza della Repubblica, quella di Cannetiello e l'Istituto Rossivairo. Nel primo caso l'ente ha previsto interventi di ricostruzione dell'edificio per un costo di circa 3 milioni e mezzo di euro, un'opera che permetterà di mettere a disposizione dei bambini e bambine un istituto moderno, sicuro e funzionale, così come richiesto in più occasioni dai genitori dei piccoli studenti. L'attuale plesso, risalente ad oltre mezzo secolo fa, sebbene più volte sottoposto di interventi di messa in sicurezza, non può essere adeguato ai nuovi standard. I fondi PNRR saranno sfruttati anche per garantire migliori servizi e gli studenti. L'aggiunta, infatti, punta alla realizzazione di una palestra a servizio della scuola dell'infanzia e primaria di località Cannetiello e alla ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra e dell'area sportiva esterna della scuola Rossivairo. I due progetti, complessivamente, prevedono una spesa di 2 milioni e mezzo di euro. Nelle scorse settimane gli uffici comunali avevano già predisposto un progetto anche per l'abbattimento e ricostruzione della scuola primaria Gino Landolfi, anch'essa risalente agli anni 60. La sicurezza degli studenti viene prima di tutto, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola. Negli anni abbiamo seguito tanti interventi sugli edifici scolastici cittadini, ma alcuni di questi risalgono ad oltre 50 anni fa e sono stati costruiti con tecniche obsolete che li rendono inadeguati ai nuovi standard. Per questo, a malincuore, dobbiamo rinunciare al grande valore effettivo che hanno per la comunità per dare priorità alla sicurezza. Le risorse PNRR ci hanno permesso di avviare un'ampia programmazione di sistemazione dei pressi scolastici comunali e di garantire nuovi servizi, ha concluso il primo cittadino. Non si tratta di interventi in ordine sparso, ma pianificati nel tempo. Gli uffici sono già al lavoro per concludere altre progettazioni.